Bastonate i carabinieri, arrestati marito e moglie, i militari dell'arma erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Vigili del fuoco a Pian del Lago, intervento dei sindacati sul soccorso tecnico urgente. Scuola, ultimi giorni di vacanza, ritorno in classe previsto nel corso della prossima settimana. Caltanissetta, consiglio comunale, convocate tre sedute, il 13, il 20 e il 27 settembre. Verso la festa di Borgo Petilia, diverse iniziative in programma. Un'abitazione di Palma di Montechiaro è diventata un ring con tanto di rissa nella quale hanno finito per avere dei guai anche i carabinieri accorsi sul posto. Sì, perché due coniugi che stavano litigando in maniera piuttosto intensa tra loro hanno finito per scagliarsi contro i due militari dell'arma intervenuti per riportare l'ordine. Protagonisti in negativo della vicenda, un bracciante agricolo di 44 anni nativo di Favara e la moglie, una casalinga quarantenne anche lei di origine favarese, che si sono beccati le accuse di irresistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. E' anche la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana, decisa dal tribunale di Agrigento dopo l'udienza di convalida con cui si è aperto il processo per direttissima. Quando i due carabinieri sono arrivati sul posto hanno infatti dovuto fare i conti con l'inaspettata reazione dei due favaresi, che li hanno aggrediti iniziando a colpirli con calce e pugni, per poi arrivare ad usare un bastone di legno contro i tutori dell'ordine. E ci è voluto un po' per riportare la calma in quella casa. Una volta placata la situazione, i due militari hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata per essere curati. Nel corso della colluttazione hanno infatti riportato contusioni, escorazioni e graffi in diverse parti del corpo. Per uno dei due carabinieri la prognosi decisa dai medici è di sette giorni e di cinque per il secondo. Ha negato di avere maltrattato ripetutamente la moglie, precisando di avere avuto con lei solo delle liti occasionali, in cui entrambi avevano finito per alzare le mani. Si è difeso così nell'interrogatorio sostenuto davanti al GIP Santi Bologna, il 33enne San Cataldese residente a Caltanissetta attualmente agli arresti domiciliari e che era stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri, dopo che la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti. L'indagato, rispondendo al GIP Santi Bologna, ha anche precisato di essersi riappacificato con la consorte, tanto che i due erano tornati a vivere insieme, aggiungendo di volersi sottoporre a un programma di recupero, visti i problemi di tossicodipendenza. Proprio questi problemi, secondo l'accusa, erano alla base dell'elite in cui l'uomo avrebbe maltrattato e insultato la donna ripetutamente, visto che quest'ultima non gradiva certo che il consorte facesse uso di cocaina. L'avvocato difensore Riccardo Palermo, al termine dell'interrogatorio, ha chiesto l'arrevoca degli arresti domiciliari o l'applicazione di una misura più lieve. Il GIP prenderà la propria decisione nei prossimi giorni, dopo aver ascoltato il parere della PM Vera Giordano, titolare dell'indagine. E mentre si avvicinano le elezioni regionali, i coordinamenti nazionale e regionale del comparto emergenza e urgenza dell'OGL Salute fanno un appello per il futuro del servizio 118 nell'isola. Con grande orgoglio possiamo dire che quello siciliano in capo alla SEUS 118 è uno tra i migliori sistemi dell'intera nazione per qualità ed efficienza, affermano il coordinatore nazionale Giuseppe Catalano ed il coordinatore regionale Giovanni Ferraro. Eppure propongono degli interventi per migliorare il servizio ma soprattutto la situazione dei lavoratori. I continui tagli ai fondi destinati per la sanità pubblica in questi anni non hanno risparmiato neanche il 118, dichiarano che soprattutto in questo periodo di lotta al Covid-19 ha continuato ad operare con le segui risorse economiche e umane disponibili. Come primo punto per questo chiediamo la sospensione degli effetti delle leggi regionali numero 13 e numero 16 per consentire la revisione della pianta organica, che non avviene da diversi anni, nonché l'indispensabile assunzione di nuove unità lavorative, evidenziano Catalano e Ferraro. A ciò occorre aggiungere l'incremento del personale sanitario a disposizione di una definitiva decisione sulla nostra questione della destinazione del personale certificato, come non idonea ad operare a bordo dei mezzi di servizio. Parlano anche di una modifica del contratto di lavoro e dell'integrazione delle varie componenti di tutto il sistema per garantire le migliori prestazioni possibili nell'ambito dell'emergenza urgenza, sottolineano. E poi ancora aggiungono. Riteniamo ancora valida la proposta di istituire la decima azienda sanitaria a carattere regionale, che andrebbe ad acquisire funzioni ai lavoratori della SEUS, nonché concludono l'idea di attivare in Sicilia il numero unico per le cure non urgenti, 116 117. C'è una sola squadra dei Vigili del Fuoco impegnata nel servizio di soccorso a Pian del Lago e che viene però impegnata anche per le altre mansioni nel territorio. Una situazione che crea naturalmente difficoltà nel garantire un servizio pienamente efficiente per fronteggiare le emergenze che possono venire a crearsi. Uno stato di cose che è stato denunciato da cinque sigle sindacali dei Vigili del Fuoco, CISL, WIL, CONFSAL, USB e CONAPO, i cui segretari Giovanni Candura, Gaspare Goto, Salvatore Gitrano, Massimo D'Ambra e Edoardo Stamberga hanno precisato di avere segnalato la questione al prefetto Chiara Armenia nel corso di un incontro e di avere chiesto un nuovo faccia a faccia all'ufficio territoriale del governo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. I rappresentanti sindacali hanno affermato. Il soccorso ultimamente viene effettuato distogliendo una squadra operativa dalle competenze per le quali è stata appositamente formata e finanziata, e cioè per fronteggiare gli incendi boschivi, e che non sarà più operativa dal prossimo 10 settembre, per la scadenza della convenzione con la regione Sicilia. Da anni ormai si aspetta che il centro di Pian del Lago provvedesse, così come tutti gli altri, a prevedere una propria squadra che facesse da presidio per prevenire alle necessità continue di soccorso. Abbiamo chiesto anche un commento al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, Salvatore Rizzo, il quale ha risposto dicendo di non volere al momento rilasciare dichiarazioni in attesa di interloquire a sua volta con il prefetto. Ma ancora ormai davvero poco all'inizio della scuola, la campanella tornerà a suonare, i ragazzi e i ragazzi rientreranno in classe per cominciare un nuovo anno scolastico che guarda un po' più alla normalità, dopo quelli passati tra lockdown, distanziamento e lezioni tra i banchi di scuola alternate a quelle dietro un PC. Sarà proprio questo aspetto a cambiare, perché si prediligeranno le lezioni in presenza e quindi non più la DAD. L'uso della mascherina non è più obbligatorio, è liberalizzato ogni forma di utilizzo degli spazi della scuola, però viene presa in considerazione la fragilità degli alunni, che dovranno comunque naturalmente avere un insegnamento in presenza, quindi non potranno richiedere in nessun caso la didattica o la didattica digitale integrata o a distanza, però potranno, a seconda delle indicazioni del medico competente, quindi il medico di medicina di base o il pediatra, insieme al Dipartimento della Salute, individuare delle forme organizzative che consentano loro di rimanere in classe e quindi di seguire la didattica comune dei compagni. Quindi la didattica digitale integrata rimane, perché ogni docente può utilizzare le piattaforme, i sistemi tecnologici di cui ormai la scuola si è dotata e anche gli alunni, però bisogna garantire la presenza. Anche i lavoratori fragili devono comunque prestare il loro servizio in presenza, ma potranno avere, a seguito del giudizio medico competente, la possibilità di essere forniti di mascherine e di schermi per il volto, per gli occhi. Naturalmente rimane l'aula di isolamento, chiamiamola così, l'aula Covid, perché nel caso in cui ci fossero degli alunni con sintomi, dovranno comunque essere accompagnati nell'aula e riprelevati immediatamente dalla famiglia. Ovviamente resta l'isolamento, che stabilisce ovviamente l'autorità sanitaria, e alla scuola è dato l'obbligo di verificare che il tampone in uscita dall'isolamento sia negativo per la riammissione in classe. Certo, la didattica digitale integrata a distanza era utile nei casi di isolamento, però si è voluto evidentemente ricondurre una sorta di normalità, un'assenza dovuta a una malattia, come poteva essere in passato, con qualsiasi malattia contagiosa. Nella nota alle istituzioni scolastiche di qualche settimana fa, con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, è inserito però anche un motto, prepararsi ad essere pronti, si legge. Si danno alle scuole delle linee da seguire per affrontare eventuali cambiamenti della situazione epidemiologica. Intanto si pensa anche alle prossime sfide per la scuola. Tutti quanti noi dirigenti saremmo impegnati anche nella nuova organizzazione dei servizi in cloud perché continuiamo a proseguire nell'agenda digitale della pubblica amministrazione e questo impegna molto noi dirigenti, così come tutta l'attività riorganizzativa del servizio anche in relazione al fatto che ogni anno accogliamo gli assunti e questo è un bene ma ci dobbiamo organizzare a farli lavorare bene, prepararsi bene, formarsi bene in servizio, così come tutta l'attività di attribuzione delle cattedre di incarico che non sono state ancora assegnate. Conclusa la pausa estiva, torna l'attività istituzionale a Palazzo del Carmine. Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Magri, ha infatti convocato le prossime tre sedute del civico consesso per il 13, il 20 e il 27 settembre, tutte alle 18 e 30. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, a cominciare dall'approvazione dei verbali delle precedenti sedute dello stesso Consiglio Comunale. Si passa poi ai conti del Comune, visto che in calendario c'è il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di una recente sentenza civile della Corte d'Appello di Caltanissetta. In calendario anche l'approvazione della revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Da discutere anche la mozione sulla proposta di istituzione dell'interprete della lingua dei segni per garantire anche ai sordomuti di seguire le sedute consigliari, argomento quest'ultimo di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Altro argomento in agenda, la proposta di intitolare l'aula universitaria del Consorzio Universitario a Giulio Reggeni. Lo studente italiano rapito al Cairo, capitale egiziana, nel 2016, è ritrovato morto nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani con segni di tortura sul corpo. Borgopetilia si prepara a celebrare la festa del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro. Già questa domenica 11 settembre ci sarà l'accoglienza della varicetta alla cattura con omaggio floreale da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e poi Santa Messa alle 19 e presentazione del nuovo Comitato Feste con l'apertura ufficiale dei festeggiamenti che dureranno sino alla domenica successiva. Appuntamenti organizzati grazie al grande impegno della parrocchia ed ai circa 10 componenti del Comitato che permetteranno di coinvolgere i fedeli residenti della zona e non solo. Questa è una festa a Sant'Isidoro, qua a Borgopetilia, che si tramanta da tantissimi anni. Non ricordo bene, si parla del 1840, credo, per il Salvatore, dove c'erano i nostri nonni. Io sono nel Comitato di quanto avevo i miei 18 anni, ora 50 anni, e lo faccio con grande passione, grande gioia, come io, come tutti i membri del Comitato, anche ora sono entrati alcuni ragazzi nel Comitato, per portare avanti una bellissima festa che ricade nella nostra zona, qui vi copre il territorio di Caltrinsetta, Santa Caterina, sono dei territori agricoli, e mettiamo tutti il massimo impegno di portare avanti questa festa, a Sant'Isidoro con una grande riuscita, con un grande risultato anche per tutti. Un fitto programma che preannuncia diversi momenti di intrattenimento e condivisione. Il 17 settembre, intorno alle 21.30, ad esempio, la strada statale 122 bis sarà inondata dalla musica. La domenica 18 settembre ci saranno giochi per i più piccoli nel pomeriggio, e per la serata finale si attende la presenza di Salvo Larosa e di Enrico Guarneri in arte litterio, e poi anche tanta tradizione come la festa dell'oratura il 15 settembre. Abbiamo già da quattro anni, facciamo la festa dell'oratura, perché di copartire Sant'Isidoro e Grico, e noi portiamo avanti questa tipologia dell'oratura, la festa inizia con l'oratura, e poi siamo in preghiera, poi facciamo degli spettacoli, ma sempre ritorno a dire per affiorare questa festa su Borgo Petita, sul nostro territorio. Tra Sant'Eme si incontra i momenti di fraternità e la Via Crucis ci si prepara al giorno di festa il 17 settembre, quando intorno alle 17.30 comincerà la processione per le vie del Borgo, mentre il giorno successivo ci sarà la benedizione delle spighe, ma anche agli animali e ai campi. È una festa che ci permette sempre più di consolidare quello che i nostri padri ci hanno donato con il loro sacrificio e con la loro devozione. E siamo qui al Borgo a rinnovare anche quest'anno tale festa in memoria di loro, ma anche perché la città chiede che questo Borgo possa rimettersi a vivere un momento particolare della propria fede in Cristo Gesù Crucifisso. Ed è per questo che questa Chiesa dedicata al Crucifisso diventa anche per noi motivo di meditazione, di riflessione ed essere anche pellegrini in Cristo Gesù, in quanto Lui Salvatore del mondo. E c'è anche il compatrono San Disidoro, tanto caro agli agricoltori, ai contadini, perché in Lui c'è questa volontà di fare dire a noi che lo spirito del sacrificio viene poi gratificato con l'abbondanza della provvidenza di Dio. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che ancora vede la pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e su Italia, ma guardate questo profondo centro di bassa pressione presente sull'Europa occidentale inizia ad avvicinarsi anche al centro Europa e lambirà le nostre regioni settentrionali. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità. Inizialmente condizioni meteorologiche buone in tutta Italia, ma col passare dell'ore iniziano a farsi vedere un po' di nuvole con delle velature sulla Sardegna e poi nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali, dove a fine giornata arriveranno anche delle piogge. Controlliamo infatti la previsione delle precipitazioni con l'arrivo appunto nella seconda parte del giorno di acquazzoni e temporali. Partiranno dalla fascia alpina e prealpina, coinvolgeranno anche le vicine zone pedemontane, ma a fine giornata scenderanno anche verso le pianure del nord-ovest. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì che parte ancora all'insegna del bel tempo, con però qualche acquazzone nel pomeriggio sulla fascia alpina e prealpina e vicine zone pedemontane, ma soprattutto a fine giornata tempi in peggioramento al nord-ovest, con temporali anche in pianura tra il Piemonte e la Lombardia, coinvolte anche le riviere Liguri. Temperature comunque in tutta Italia ancora sopra la norma, riusciamo a toccare localmente e superare i 30 gradi. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località e guardate giovedì, sarà una giornata molto variabile al centro-nord, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pantano, Via Don Minzoni Servizio notturno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara Servizio diossipio